Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Che cosa ci affascina? Delle truffe? Beh, è una bella domanda, ma in effetti di film dedicati a truffe famose, è vero, inventate che siano, ce ne sono una marea. E spesso sono film che hanno una grossa fortuna. Forse è un po' l'immedesimarci in quello che sta succedendo, metterci dalla parte della vittima, farci sentire anche intelligenti nel dire no, io quella truffa non ci sarei mai cascato. Oppure dall'altra parte l'ammirazione verso una persona che ovviamente compie un crimine, rovina molto spesso la vita ad altri, ma lo fa con la sua intelligenza, sfruttando le sue doti e la creduleria altrui. Qualcuno potrebbe dire che essendo italiani queste cose un po' ci attirano. Dopotutto, sempre qualcuno, ha fatto notare che il termine furbo in italiano ha un'accezione positiva, mentre in quasi tutte le altre lingue ha un'accezione negativa o non è traducibile. E questo forse dice qualcosa. Ad ogni modo, questa è una cosa ovviamente personale, ma la truffa che vi voglio raccontare oggi è una truffa famosissima. Non tanto in Italia, curiosamente, di cui non se ne parla quasi mai, anche se c'è un film degli anni 70 con Paolo Stoppa, protagonista, che vi straconsiglio di andare a vedere se volete recuperare, ma è una truffa invece famosissima altrove, soprattutto in Portogallo, dove la truffa è avvenuta, dove è, oltre che molto famosa, addirittura, pensate, considerata tra le cause della dittatura portoghese che dominò la vita politica del Portogallo per 40 anni. È una storia particolare, è una storia che a un certo punto divenne letteralmente gigantesca dal punto di vista economico, ma è una storia che inizia con una semplice bugia, come tante delle truffe che vediamo nei film, solo che questa volta invece è vero. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. Il protagonista della nostra storia si chiama Arthur Virgil Alves Dos Reis, anche se normalmente conosciuto solo come Alves Dos Reis, quindi chiamiamolo così, non con il nome completo, nato in Portogallo e Lisbona nel 1896. Come spesso capita in queste storie, la sua è una storia che parte dal basso, veniva da una famiglia umile, il padre aveva una piccola agenzia di pompe e funebri, agenzia, peraltro, che fallì, mentre quando ancora il nostro Alves era giovanissimo, lasciando tutta la famiglia sul lastrico e poi lasciando lui stesso senza un soldo. Inizialmente, dato che era una persona molto intelligente, la famiglia aveva cercato di farlo studiare, ma un po' per la mancanza di soldi, un po' perché nel mentre si era innamorato di una donna decisamente più ricca di lui, proveniente da una famiglia della ricca borghesia, nel 1916 aveva deciso di lasciare gli studi. Si era sposato, ovviamente con molta contrarietà da parte della famiglia di lei, e dato che non aveva un soldo, non aveva un mestiere e soprattutto non voleva vivere della carità della ricca famiglia della moglie, che gli aveva già anche offerto un lavoro, ma l'aveva fatto in realtà con molto molto disprezzo, decise nel 1906 di raccogliere quel poco che aveva a prendere la moglie, attraversare il mare e andare in Angola. Perché in Angola? Beh, perché all'epoca l'Angola era uno degli ultimi rimasugli dell'antico impero coloniale portoghese, anzi un territorio che all'epoca era in crescita perché il Portogallo vi stava investendo molto dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista delle ricerche mineralie, e quindi poteva essere un luogo dove far fortuna, dove dimostrare che le sue capacità gli avrebbero permesso di arrivare al livello della famiglia della moglie. Quando arrivò in Angola però, il nostro si rese conto che con le sue nulle qualifiche aveva lasciato la scuola, grosse possibilità non le avrebbe avute, e per questo decise di fabbricarsi da solo un attestato, un attestato di un affantomatico politecnico d'ingegneria dell'Università di Oxford, inutile dire che ovviamente non esiste, che lo dichiarava dottore appunto in ingegneria con specializzazioni molto ampie, dalla meccanica, l'elettronica, le costruzioni, insomma faceva di lui un perfetto tecnico per una colonia in espansione. Inutile dire che quando presentò questi documenti tutti gli credettero, anche perché pare che avesse una parlantina decisamente molto vivace, e riuscirono a farlo assumere all'interno dell'amministrazione coloniale, dove progressivamente con le sue capacità iniziò a scalare posizioni. Grazie a questa sua posizione, nel 1922, quindi sei anni dopo essere arrivato nella colonia, venne a conoscere una notizia molto molto riservata. La notizia riguardava una compagnia ferroviaria, una compagnia che si occupava di gestire, per conto del governo portoghese, alcune ferrovie all'interno della colonia, che si chiamava Ambaca, la quale aveva prosperato inizialmente, ma poi a causa dei pochi proventi, l'Angola è una terra con una scarsa popolazione, è un territorio in gran parte non abitato, a causa dei pochi proventi aveva iniziato ad andare in perdita. Le perdite erano peggiorate e la ditta aveva progressivamente perso di valore, aveva cercato disperatamente un acquirente e stava per chiudere. Ora voi direte, che cosa può interessare di una ditta che sta quasi per dichiarare fallimento? Beh, l'interesse, e qui ovviamente veniva la notizia di cui nessuno sapeva nulla, era che lo Stato portoghese, per riuscire a sostenerla ed evitare che quindi l'intero sistema ferroviario della colonia potesse crollare, aveva deciso di investire l'equivalente di 100.000 sterline, ho trovato la cifra solo in sterline dell'epoca, ma sapete che all'epoca si usava proprio le sterline o i dollari, più che i dollari anzi per indicare i valori di quanto veniva versato, ad ogni modo di investire circa 100.000 sterline dell'epoca nella ditta, affinché potesse andare avanti in attesa di un acquirente. Il nostro a questo punto, fiutato l'affare, decise di aprire un conto in una banca, una banca che aveva la sede localmente in Angola, ma che in realtà aveva la sua sede centrale e la sua origine a New York. Una volta aperto il conto, chiese un libretto di assegni, un libretto di assegni che doveva essere spedito dalla sede centrale e sarebbe arrivato per nave in qualche settimana, dopodiché si presentò all'asta per l'acquisto dell'ambaca e la comprò, sostanzialmente promettendo che avrebbe versato al più presto gli assegni e dicendo che stava attendendo che questi arrivassero da New York. Assegni che lui diceva sarebbero stati coperti da un investitore che lui stesso aveva trovato con il quale rilevare la compagnia. Una volta che fu in possesso della compagnia, ovviamente in attesa di versare ancora il denaro, la prima cosa che fece fu ovviamente di prendere quelle 100.000 sterline che il governo portoghese aveva versato alla compagnia, versarsele da solo sul proprio conto, quello della banca di New York, cosicché quando gli assegni arrivarono, lui prese il libretto degli assegni e pagò la compagnia con i soldi dati dal Portogallo. Insomma, aveva comprato una compagnia in perdita, che però aveva molto denaro in cassa e l'aveva pagata con il denaro stesso della compagnia, che era stato prestato, a fondo ovviamente perduto, dallo Stato portoghese. La cosa, inutile dire, che venne ben presto fuori, perché ad un certo punto, quando lo Stato iniziò a capire che una volta comprata la compagnia, lui aveva iniziato a smantellarla, lo Stato ovviamente voleva che quelle ferrovie continuassero ad andare, invece lui, per evitare ulteriori perite, aveva iniziato a smantellare la compagnia, non solo, ma aveva dimostrato di voler anche utilizzare il denaro per comprare altre compagnie, si parlava di una compagnia mineraria, insomma, cercava di ripetere lo stesso giochino un'altra volta, quando lo Stato iniziò a non vederci più tanto chiaro, decise che la cosa non andava bene. Vennero fatte delle ricerche, si scoprì che cosa aveva fatto quel denaro e il nostro Alves Dos Rey venne preso e portato in galera. Siamo nel 1924. Ora, nonostante fosse stato imprigionato, e gran parte del denaro che era riuscito a nascondere gli fosse stato sottratto, la compagnia sfuggita a suo controllo, in realtà le cose non andarono così male per lui. Innanzitutto perché in galera ci rimase pochissimo, poco più di 50 giorni, scarcerato per un vizio di forma e questo ovviamente fece rallentare tutto il procedimento, anche perché lo Stato portoghese, che all'epoca aveva molta instabilità dal punto di vista politico, non aveva tutto questo interesse a mostrare di essere stato truffato in questo modo e questo ovviamente andò tutto a suo vantaggio. Mentre si trovava in galera però, iniziò ad avere un'idea, l'idea per una truffa ancora più grande di quella che aveva creato, una truffa che, nel suo buon modo di vedere, avrebbe potuto renderlo ricco. Ora, quello che era avvenuto gli aveva fatto capire una cosa. Lo Stato portoghese aveva intenzione di investire in Angola e quei soldi lo dimostravano, ma allo stesso tempo non voleva mostrare eccessivamente quello che stava facendo, perché l'economia portoghese ristagnava, non si poteva ovviamente dal punto di vista politico sprecare, tra virgolette, tutti quei soldi in una colonia ed era quello il motivo per cui ovviamente il suo caso era stato in qualche modo stralciato. A questo punto decise di sfruttare questa cosa, che nella colonia sapevano in tantissimi, a suo piacimento. Che cosa fece? Innanzitutto iniziò a produrre documenti falsi, perché questo ovviamente era la sua base, su questo bisogna dire che era un ottimo falsario, in particolare dei documenti che certificavano che lui fosse un intermediario per conto del Banco del Portogallo. Che cos'è il Banco del Portogallo? Era la Banca Statale del Portogallo, un po' come dire Banca Italia, così ci capiamo. Bene, secondo quanto indicavano quei documenti, il Banco del Portogallo lo aveva incaricato di compiere un lavoro che era legale, ma che non doveva essere rivelato. Questo lavoro, per cui lui ovviamente produsse tutta una serie di certificati, assolutamente, a chi si chiedeva ma come ha fatto a procurarsi le firme? Beh, molto semplicemente prese una banconota, le banconote sono tutte firmate, e copiò la firma, e nessuno se ne accorse. Quindi tutti avevano questi contratti firmati dal direttore della Banca di Stato. Ad ogni modo, prese questi contratti, andò da un notaio, se lo fece autenticare, e qui ovviamente un notaio che o venne pagato, o fu così distratto da non leggere tutto attentamente, per maggior sicurezza, se lo fece autenticare anche da delle ambasciate, come quella olandese, quella tedesca, anche qui probabilmente con qualche mazzetta, e una volta che se lo fu procurato, iniziò a cercare dei complici. Chi erano questi complici? Beh, erano persone in vista in Angola, che vennero contattate, gli si spiegò quello che si voleva fare, cioè che lo Stato volesse fare un'azione sotto copertura per aumentare l'economia angolana, dicendo sostanzialmente che il motivo per cui lui era stato rilasciato era perché il Portogallo aveva riconosciuto le sue capacità e aveva deciso di sfruttarlo. Chi erano queste persone? Beh, c'era di tutto. C'erano ricchi mercanti stranieri, un tedesco, un olandese, c'erano esponenti del governo locale, quindi portoghesi, c'erano anche uomini inseriti a livello diplomatico, c'era il fratello, ad esempio, dell'ambasciatore portoghesi in Olanda, insomma, un variegato gruppo di persone che forse aveva capito che si trattava di qualcosa di non molto pulito, ma che dall'altra parte era convinta, o meno questo dichiarava, che tutto fosse regolare. A questo punto, una volta che ebbe raccolto il suo numero, il suo gruppo di aiuto, decise di mettere in atto il suo piano. Era un piano semplicissimo. Che cosa fece? Produsse un nuovo documento, ovviamente sempre firmato dal Banco del Portogallo, con il quale lo si incaricava di stampare delle monete, delle banconote, delle banconote da 500 scudi portoghesi, che all'epoca era il taglio più grande ed era stato peraltro da poco stampato, appena da un anno e poco più, ne era stata stampata una nuova serie, identica a quella che lui stesso avrebbe voluto stampare. Secondo questo, quello che raccontava il contratto, questo denaro sarebbe stato stampato di nascosto, quindi non ufficialmente, in modo da non rientrare nel computo delle banconote stampate, e sarebbe stato utilizzato sempre di nascosto per finanziare l'economia angolana. Un piano, ovviamente, che sembrava assolutamente realistico e che dall'altra parte avrebbe lasciato in tutti i partecipanti a questo lavoro una percentuale, una percentuale bastante, a renderli tutti ricchi. Ora, voi direte, ma come possono aver pensato che uno Stato facesse una cosa del genere di nascosto? Beh, ve l'ho detto, era un periodo che dal punto di vista era molto complesso e pare che, questo lo scrivono anche delle fonti portoghesi, pare che il giudizio nei confronti dello Stato, la fiducia nei confronti dello Stato fosse letteralmente al minimo e operazioni coperte di questo tipo, anche se molto più piccole, pare ci fossero già state e quindi a tutti sembrò abbastanza normale che potesse avvenire. A questo punto ci fu un vero e proprio colpo di fortuna. Perché? Perché il nostro, inizialmente, su suggerimento di uno degli altri che parteciparono alla truffa, chiese di stampare queste banconote ad un'azienda olandese che si occupava proprio di stampare banconote. Ma quando si presentò in Olanda con l'indicazione e anche con dei biglietti da 500 scudi, perché ovviamente pensava di poterne fare in questo modo una copia, il rappresentante della ditta gli disse che loro avrebbero anche potuto farlo, anche se la cosa non li convinceva tantissimo, ma che in base al tipo di stampa erano riusciti facilmente a risalire al fatto che quelle banconote erano state stampate da un'azienda inglese che loro conoscevano e che, a loro parere, sarebbe stato molto più intelligente rivolgersi alla stessa azienda che si aveva già stampato le altre banconote da 500 scudi, probabilmente aveva ancora le matrici e quindi avrebbe potuto fare un lavoro in maniera molto più semplice. Il nostro, fu quindi molto contento di questa cosa, andò a Londra e prese contatto con quell'azienda. L'azienda si chiamava Waterloo, Waterloo e figli, vabbè, ad ogni modo un'azienda che era anche una delle aziende principali in Inghilterra che si occupava di questa cosa e che già da molti anni serviva il Portogallo nel produrre le banconote, banconote che il Portogallo non riusciva a produrre di una qualità sufficiente e quindi si appoggiava a ditte straniere. Anche la Waterloo inizialmente ebbe qualche dubbio su tutto questo, ma il nostro Alvestos Reis continuò a produrre documenti che giungevano dalla banca, giunse addirittura ad intercettare delle lettere che la Waterloo scrisse alla banca del Portogallo per avere conferma che stava facendo le cose in maniera corretta, rispondendo lui stesso, quindi dicendo sì sì certo è un nostro intermediario però non bisogna far sapere nulla perché è una cosa non molto sicura, e ad un certo punto quando poi Alves diede i numeri di serie alla Waterloo dissero sì ma questi numeri di serie li abbiamo già utilizzati, verranno delle banconote che hanno dei numeri di serie già presenti nel mercato portoghese al che Alves riuscì a recuperare dicendo che in realtà quelle banconote sarebbero state utilizzate solo in Angola e quindi una volta prodotte sarebbero state portate in Portogallo e qui gli sarebbe stato apposto un timbro con soprascritto Angola e nessuno avrebbe potuto far confusione. Insomma, riuscì a rispondere a tutti i dubbi della ditta inglese che alla fine si mise a stampare e finalmente nel febbraio del 1925 iniziò a consegnare le prime banconote. Ora, inutile dire che quelle banconote erano perfette. Erano banconote da 500 scudi assolutamente identiche a quelle in circolazione. Ma realmente perché venivano dalle stesse matrici? Non c'era modo di distinguerle. L'unica differenza ovviamente erano i numeri di serie che talvolta si ripetevano. Ma quale casualità avrebbe portato una persona ad avere due banconote con lo stesso numero di serie e a confrontare quel numero? Ovviamente contavano su questo. Nei mesi successivi quelle banconote aumentarono tantissimo di numero. Alla fine vennero stampate addirittura 200.000 banconote da 500 scudi. una quantità di denaro enorme innanzitutto numericamente erano pari alla stampa che era stata fatta negli anni precedenti quindi un numero enorme di banconote ma era enorme anche la quantità di denaro perché pensate equivaleva all'1% dell'intero prodotto interno lordo del Portogallo insomma una quantità di denaro enorme. Man mano che quel denaro arrivava in Portogallo e da qui veniva spostato in Angola utilizzando proprio coloro che avevano partecipato a questo accordo molti dei quali avevano degli accordi internazionali riuscivano a spostare della merce o avevano magari delle erano diplomatici e quindi potevano passare oltre i controlli man mano che questo denaro veniva portato in Portogallo vi dicevo e da qui in Angola il nostro Alvestos Reis decise ovviamente sempre per continuare questa sua copertura di aprire una nuova banca una banca dell'Angola una volta arrivato qua cosa fece iniziò a finanziare i progetti cioè chiunque volesse aprire negozi costruire ferrovie aprire una miniera in Angola si rivolgeva a lui che gli faceva dei prestiti ad un tasso bassissimo quasi nullo e ovviamente questi aprivano le loro attività e ripagavano poi quegli interessi ripagavano poi il prestito con del denaro corretto in questo modo sostanzialmente riciclava tutto quel denaro e lo iniziava a mettere in circolo inutile dire che non tutto il denaro finiva in quella banca questo è ovvio una parte finì nei conti correnti di coloro che avevano partecipato alla truffa tra cui anche i conti correnti dello stesso Alves Sosreis che non solo si costruì un gigantesco palazzo ma iniziò ad acquistare oggetti gioielli per la moglie auto insomma qualunque cosa gli potesse permettere di fare una bella vita a questo punto però qualcuno iniziò ad avanzare dei sospetti perché quella banca concedeva troppi prestiti prestiti che a un certo punto avevano iniziato a essere concessi addirittura anche in Portogallo quindi insomma si erano diffusi tantissimo pensate che iniziò a circolare talmente tanto denaro proveniente da quella banca che l'economia ebbe una crescita insomma ci fu anche persone che furono contente di quello che stava succedendo perché l'economia portoghese stava crescendo ovviamente in maniera fittizia perché tutto questo denaro era stato prodotto illegalmente stava letteralmente drogando il mercato qualcuno però iniziò vi dicevo ad avanzare dei dubbi sulla banca perché si iniziarono a rendere conto che quella banca aveva una disponibilità economica che non aveva senso perché da una parte i suoi sportelli erano quasi vuoti nel senso che non vi erano dei correntisti che andavano a portare i propri soldi alla banca dall'altra quella banca sembrava continuare a buttare nuovo denaro in nuove iniziative insomma c'era una completa disparità tra il denaro che entrava e il denaro che usciva qualcuno a quel punto iniziò a pensare che si trattasse di una mossa diplomatica il fatto che tra i più stretti collaboratori di Alvesos Reis ci fosse un mercante tedesco che peraltro nella prima guerra mondiale era noto per aver compiuto delle attività di spionaggio proprio tra la Germania e il Portogallo iniziò a far temere che tutto questo fosse una gigantesca manovra tedesca Germania che aveva perso dopo la prima guerra mondiale le sue colonie ma che secondo alcuni stava cercando di recuperare influenza in Africa partendo proprio dall'angolo almeno dal punto di vista economico a questo punto iniziarono a fare delle ricerche e a quelle ricerche iniziarono a partecipare anche dei giornali alla fine il 5 dicembre 1925 la notizia esplose i giornali uscirono a titoli cubitali raccontando che cosa era successo vennero mostrate delle foto foto che mostravano ovviamente due banconote perfettamente identiche con lo stesso numero di serie banconote che ovviamente erano state stampate in maniera diversa e i giornali uscirono anche con delle interviste alla fabbrica alla Waterloo inglese in cui raccontavano tutto quello che era stato raccontato loro ovviamente smentito dai vertici del Banco del Portogallo smentito dai vertici dello Stato che iniziarono ad accusare Alves Ostreis di tutto quello che era successo mentre lui e buona parte dei suoi complici non tutti qualcuno riuscì a scappare vennero arrestati lui peraltro pare che avesse volutamente voluto presentarsi in Portogallo dicendo che non aveva nulla da temere perché era sicuramente non colpevole mentre comunque loro venivano arrestati la notizia di quello che era successo faceva esplodere l'economia portoghese che quando ci si rese conto che c'era tutto che c'era tutto quel denaro in più in circolazione ebbe un'impennata dell'inflazione un crollo del valore dello scudo sui mercati internazionali con il risultato ovviamente di creare un bel patatrack all'economia il nostro sarà ovviamente portato in galera il tribunale ci metterà cinque anni a decidere anche perché lui stesso cercherà di difendersi che continuerà a presentare del materiale ovviamente falso dando la colpa al banco del portogallo per quello che era avvenuto insomma ci vollero cinque anni ma alla fine nel 1930 sarà condannato e imprigionato per 15 anni uscendo solo nel 1945 vivrà ancora una decina d'anni praticamente in povertà anche se da alcuni considerato quasi un piccolo eroe per il portogallo tutto questo fu ovviamente motivo di una grossa crisi economica che unita alla crisi politica che era già in corso secondo alcuni fu il colpo definitivo alla stabilità del governo portoghese e porterà al colpo di stato militare che poi condurrà il portogallo ad un lunghissimo periodo di dittatura l'estadio nuovo guidato da Salazar altri di coloro che avevano partecipato a questa truffa saranno catturati imprigionati qualcuno sconterà la propria pena in portogallo altri la sconteranno altrove uno dei pochi a riuscire a sfuggire alle maglie della giustizia fu proprio il mercante tedesco il quale riuscì a fuggire in germania con buona parte del proprio denaro si creò una ovviamente una seconda identità fittizia e per alcuni anni visse in maniera molto ricca del denaro che si era procurato poi perché poi la vita è una ruota che gira fu anche lui truffato perse tutto e nel 1936 morirà in povertà peraltro in maniera assolutamente poco chiara questa truffa gigantesca che vi ho raccontato rimane però nelle libri di storia pensate che è talmente famosa all'estero che addirittura se andate al British Museum troverete due banconote una originale e una invece prodotta da Alves Sostreis messe vicino proprio a raccontare questa storia la ripeto non in Portogallo ma al British Museum è vero che Portogallo e Gran Bretagna hanno da sempre un forte legame ma la cosa è quantomeno curiosa peraltro i poveri della Waterloo e figli inglesi furono subirono anche loro un processo perché il Portogallo lo Stato portoghese li citò a giudizio furono costretti a pagare dei danni sostanzialmente ripagando tutto il denaro che erano stati pagati legalmente per stampare quelle banconote e questo provocò anche a loro un crack finanziario e l'azienda fu assorbita da un'altra insomma da tutto questo caos non ci guadagnò nessuno forse ci guadagnarono in Angola per qualche mese perché per qualche mese ci fu una marea di denaro da poter utilizzare e questo diede un bel colpo all'economia ma quando poi ci si rese conto di quello che stava succedendo tutto questo castello che in realtà era stato costruito dalle carte sulle carte crollerà e ovviamente non rimarrà che polvere e purtroppo una lungo periodo di dittatura ad ogni modo io mi fermo qua ringrazio tantissimo voi che siete arrivati fino a questo punto ringrazio come sempre tantissimo abbonati e patreon perché grazie al loro sostegno che riusciamo a produrre questo materiale e a mandare avanti il canale in particolare oggi ringrazio Lorenzo Testi grazie mille per il tuo sostegno e il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia ah ho messo sotto una piccola playlist dedicata delle truffe casomai fosse interessato l'argomento a presto ciao ciao